Musica Dedichiamo questo speciale a un evento che partirà l'8 di settembre e si terrà a Santa Severina. Io vorrei chiedere a Angela Caccia, che è il nostro ospite, lei ama la poesia in una maniera veramente molto significativa. Questo evento che avete organizzato è dedicato alla poesia? Decisamente sì. È un appuntamento più che altro che mancava qui nel Crotonese. E allora ci siamo attrezzati con l'amministrazione di Santa Severina, altri collaboratori tipo la Proloco, Siberene e il liceo classico di Odato, una triade vincente, a promuovere appunto un evento del genere e che ci auguriamo abbia più edizioni e soprattutto abbia sia da volano, perché l'intento è quello di stimolare i giovani alla poesia. Infatti ogni incontro, se mi consenti, lo spiego, ogni incontro vedrà due poeti con l'iniziale maiuscola, poeti che possono piacere e non piacere, però quell'iniziale maiuscola nessuno gliela può togliere proprio perché hanno acquisito una certa autorevolezza nell'ambito della poesia contemporanea. Saranno intervistati, invitati a declamare i loro versi e a fianco, poi nel corso della serata, ci saranno anche tre voci poetiche, alcune nuove, altre già consolidate, perché magari hanno già un percorso felice in premi, concorsi letterari o nella partecipazione ad eventi poetici. Allora, è il primo festival della poesia? Sì, è la prima edizione. Qual è il nome che avete dato a questo festival? Il nome è un po' bizzarro, è un gioco di parole, a sud di ogni altrove, perché vorremmo dare appunto risalto al nostro meridione e alla Calabria in particolar modo. Pietro, io ho ritrovato una persona che ho conosciuto tantissimo tempo fa a Santa Severina, ma dobbiamo dire che Santa Severina è quel comune in cui la cultura è sempre al centro delle attività. Assolutamente sì. Noi da anni ci spendiamo per promuovere la cultura a 360 gradi con una serie di iniziative durante tutto l'arco dell'anno. Diciamo che questi eventi trovano a Santa Severina terreno fertile, perché crediamo nella cultura che debba essere uno dei volani di sviluppo e di crescita non solo per la nostra comunità, ma per tutto il territorio calabrese. Dice bene la poetessa Caccia, noi abbiamo subito fatto nostra la sua idea per questa prima edizione del Festival della Poesia d'Autore. mancava nel nostro territorio un appuntamento così importante per questa tematica, anch'essa importante, quindi ci siamo subito prodigati affinché questo evento possa colmare questo vuoto che c'è nel nostro territorio. L'evento è stato strutturato su tre giornate, 8, 15 e 30 settembre, dalle ore 17 nel nostro castello del comune di Santa Severina. avremmo in quelle occasioni il piacere e l'onore di ospitare poeti di caratura nazionale. Alcuni hanno partecipato al premio strega, altri sono stati designati anche al Nobel della Poesia, ai quali si affiancheranno dei poeti emergenti e non calabresi. Quindi sarà un evento sicuramente di un elevato spessore culturale e quindi siamo veramente fieri e felici di ospitare questo evento. L'agurio è quello che si possa migliorare nel tempo e che si riesca appunto a colmare definitivamente questo vuoto su questo tema che è la poesia ma la cultura in generale. Ma poi come location il castello di Santa Severina è un punto di riferimento culturale, storico che attira l'attenzione di tutti? Beh, devo dire che io ho il piacere di essere un amministratore. Tutti gli amministratori di Santa Severina si devono prodigare appunto nella cultura. Santa Severina da sempre ha una storia millenaria, è stato centro culturale del nostro territorio e non solo. È chiaro che da Santa Severina sono usciti dal nostro liceo classico personaggi e personalità che hanno ricoperto e che ricoprono ancora tuttora non solo nel territorio nazionale ma anche sul tutto in Europa ma anche nel mondo. Devo dire cariche importanti si sono distinti non solo nell'ambito culturale ma anche nelle professioni. Angela, parlare in positivo è sempre molto importante perché siamo abituati ad avere un'immagine della nostra terra negativa. La cultura c'è, la cultura deve emergere e poi questi eventi possono rappresentare un punto importante anche per i giovani, per gli studenti. Ma soprattutto per gli studenti. A me capita di avere delle... di ricevere delle mail proprio da insegnanti di liceo. Mi sottopongono i versi di questi studenti, alcuni sono insomma ancora calibrati su amore fa rima con cuore ma altri hanno un guizzo, un tale suono cristallino che mi verrebbe voglia di dire avrei voluto scriverli io questi versi. Ecco perché io non credo nelle scuole di poesia, penso che la poesia così come l'ispirazione poetica sia un qualcosa sul quale chi ne scrive non ha nessun potere. Però credo nei laboratori di poesia, cioè nella possibilità di condividere esperienza nello scrivere poesia. Quindi benvenga. Tu dicevi giustamente abbiamo tanti personaggi importanti che ci sono, che sono usciti da... sono nati, hanno vissuto a Santa Severina e oggi sono in giro per il mondo e vivono in altre terre. Ecco il liceo è sicuramente una scuola in cui c'è una formazione culturale molto forte. Ma dobbiamo dire che questi studenti che vivono a Santa Severina hanno anche questa passione per la poesia, quindi significa che è il filo conduttore la poesia? Beh, è chiaro che il liceo fa da padrone a Santa Severina perché diciamo è uno dei licei più antichi della Calabria. Nel corso del tempo, come dicevo, si sono formati personaggi che hanno rilevanza nazionale, quindi la cultura è presente a Santa Severina non solo attraverso le manifestazioni, ma sicuramente o gli eventi, ma sicuramente i docenti e la storia millenaria del nostro liceo aiuta ovviamente noi amministratori a divulgare cultura, ma sono loro stessi, quindi i docenti in primis e gli studenti poi che ci affiancano sempre nelle varie manifestazioni. Quindi avete accolto con grande piacere questa iniziativa di Angela? Assolutamente sì, Santa Severina da sempre accoglie volentieri tutte le idee, tutto quello che ruota intorno al mondo della cultura, perché ripeto, per noi la cultura è importante, la cultura deve essere il volano di sviluppo e di crescita per il nostro territorio, senza cultura non si fa nulla. Come è nata questa idea di questo festival? Che cosa ti ha spinto a scegliere anche come nome questo, quello che tu hai scelto, no? Per quanto riguarda la poesia. È vero che tu ami la poesia e sei una poetessa, però credo che tu guardi oltre quello che è la tua passione. Il mio oltre sarebbe quello di lasciare una traccia. Qualcuno che prenda in mano il testimone e porti avanti iniziative sulla poesia. Perché come diceva il vice sindaco, per citare un grande, Broschi, la poesia è un acceleratore di coscienza. Quindi nella misura in cui si insegna, si porge, si aiuta a masticare poesia, si ha di rimando la certezza di crescere uomini e donne sani. L'idea mi è venuta proprio, fu invitata all'inizio di agosto a un festival internazionale del Pollino. Splendida esperienza. E mi guardai un po' in giro e mi resi conto che da noi mancava proprio un appuntamento fisso. E da noi intendono il crotonese. E allora mi adoperai. E logicamente, insomma, fu un gioco facile telefonare al sindaco e ad altri amici di Santa Severina perché accolsero subito l'iniziativa. E la speranza è che decolli questo festival. In modo da raccogliere, mi si passi questo termine anche se non è quello esatto, da raccogliere e accogliere tutte le voci poetiche e dell'Interland e della Calabria. Perché già qualcuno nel vedere la locandina si è fatta avanti in modo timido, altri invece in modo più sfacciato. E allora già avremmo pronta una seconda edizione. Però camminiamo ora a vista. Procediamo ora per questa edizione. E poi dobbiamo dire che è formazione. Perché quando si parla di poesia si scopre la bellezza dell'anima. Quella bellezza che emerge vuole mettere in evidenza anche quello che è il nostro bello. Per noi abbiamo tante cose belle. Abbiamo panorami molto belli. Abbiamo il mare. Abbiamo la storia del nostro territorio che è una storia importante. Quindi parla il cuore, non parla la mente. Ma io penso che parlino entrambi. Perché di fatto c'è una proiezione anche dell'animo in quello che ci circonda. Allora un prato verde può rappresentare la serenità dell'animo, un fulmine, una tempesta di sentimenti. E noi, come dicevi tu, di spunti paesaggistici ne abbiamo aggiosa. Quindi voi avete accolto subito questa idea, questo progetto. E chiaramente vi siete messi anche voi al lavoro. Assolutamente sì. Come dicevo abbiamo subito accolto l'iniziativa della Poetessa Caccia. Non solo l'amministrazione comunale, ma anche la Proloco Siberene che ci affianca in tutti gli eventi, in tutte le manifestazioni. Abbiamo un presidente giovane che si sta prodigando molto negli eventi culturali. Ma anche abbiamo un gruppo di volontari. Santa Severina su questa tematica è molto attenta. Abbiamo un bel gruppo e quindi ci affiancano e lavoriamo in sinergia tra le associazioni e l'amministrazione comunale. E questo è fondamentale perché quando si riesce a fare rete e sinergia emergono tante novità che possono essere importanti non solo per Santa Severina ma per tutto il territorio. A proposito di questo festival, state collaborando anche con altri sindaci, con altri comuni della nostra provincia per far sì che sia un evento di tutto il territorio? L'idea è quella di ampliare poi. È nato tutto e molto in fretta. Devo dire la prima edizione, appena la Poetessa Caccia è venuta a Santa Severina, ci ha proposto subito questo festival. È stato accolto e in un batter d'occhio in pratica è stato già ideato e poi tra poco lo realizzeremo. L'idea sì è quella di andare nelle varie amministrazioni, nei vari territori, non solo per recuperare poeti emergenti e nonne, ma soprattutto di fare una collaborazione fattiva tra le varie amministrazioni quindi per creare ancora di più e allargare ancora di più quella sinergia che già a Santa Severina viviamo in maniera quotidiana. Santa Severina vive in maniera quotidiana questa sinergia, ma la rete dei comuni c'è? Assolutamente sì, su altri eventi. Su questo ci lavoreremo dalla seconda edizione in poi. Certo, è giusto che il primato lo abbia Santa Severina perché è la culla della cultura. È vero che Crotone diciamo sempre che è la culla della cultura, ma abbiamo un territorio di cui dobbiamo essere orgogliosi. Quindi giustamente Angela, Santa Severina merita di essere al centro di questo festival. Ma guarda, ecco il vice sindaco parla di sinergia, è stata la costruzione di un noi, perché si è convogliati tutti verso l'idea di attuare questo evento. È stato un po' precipitato perché insomma, anche nell'invitare gli amici, viva Dio mi è andata bene perché hanno risposto tutti di sì, però è un periodo caldo questo, quindi molti poeti vengono proprio precettati nelle varie manifestazioni culturali. Alcuni, ad esempio, sono già... abbiamo dovuto cambiare l'appuntamento perché erano stati invitati al famoso Pordenone Legge, che è una manifestazione nazionale di poesia molto importante. Ma la bellezza, questa triade compatta, no? Liceo Borrelli, Proloco, parlava appunto del dottore Panza, lui, sindaco e amministrazione tutta. Nessuno che voglia emergere, tutti che lavorano per un noi, per portare avanti appunto la costruzione di qualcosa di buono. È stato... vabbè, ma io conoscevo già Santa Severina, quindi è inutile andare là a fare sviolinate o altro. Vuoi dirci qualche nome di qualche poeta, ecco, magari che non è del nostro territorio, che ha deciso, che ha accettato questo invito? Beh, abbiamo... permettimi di dire il più importante, insomma, il più rinomato, se non altro, Dante Maffia, che è stato negli anni scorsi candidato al Nobel. E poi abbiamo due pugliesi, la poetessa Piccino e il poeta Pasquale Vitagliano, entrambi saggisti, critici, fini, giurati, in svariati concorsi. La Piccino è anche traduttrice. E poi abbiamo degli autori Passigli. Passigli, per chi si intende un po' di poesia, sa che è una casa editrice pari a Crocetti, a Donzelli. E questi sono appunto Panetta, Alfredo Panetta, che se non è il primo, è tra i più grandi poeti dialettali calabresi, e Sergio Pasquandrea, anche lui un jazzista, giornalista, un poeta tra i più fini. Ah, poi dimenticavo, la poetessa Triolo, lei e Lucia Triolo è risultata in due step dei tre del premio Strega, tradotta, recensita anche fuori Italia. Quindi dobbiamo dire che c'è la presenza di poeti di una certa importanza, io direi i VIP, no? Della poesia, che possono veramente dare a queste serate che avete organizzato, a questi incontri, un segnale speciale, particolare, anche perché chi ama la cultura sicuramente non può perdere questi eventi. Assolutamente sì, sono tre giornate importantissime, quindi meritano l'attenzione da parte di tutti, ovviamente. È sicuramente, come dicevo prima, un evento di un elevato spessore culturale, visto i nostri ospiti che avremo a Santa Severina. Noi ce la mettiamo tutta per organizzare questi eventi, le nostre porte sono sempre aperte a questi tipi di eventi e manifestazioni. Abbiamo avuto sicuramente la fortuna di ereditare dalla storia un patrimonio artistico monumentale non indifferente. Diciamo, il nostro monumento principale, che è il castello, noi lo riteniamo un contenitore, che va riempito appunto di contenuti, quelli culturali, ovviamente, da noi hanno, come dicevo prima, terreno fertile. Quindi siete anche organizzati per l'ospitalità di questi personaggi? Assolutamente sì, saranno nostri ospiti, quindi alloggeranno in delle strutture a Santa Severina e avranno anche il piacere di visitare il nostro borgo e le nostre bellezze e meraviglie, come dicevo prima, che la storia ci ha regalato. Angela, una cosa che ti volevo chiedere, ma alla fine di questo festival, di questa prima edizione, di questi tre incontri, ci saranno dei premi che saranno assegnati o no? No, premi no, però volevo mettere in luce le tre voci poetiche dell'Interland crotonese, calabresi comunque, che si succederanno nei tre incontri. E sono, certo, i nostri poeti invitati e noti sono calibri da 90, insomma. Però anche questi non dispiacciono e fa piacere, fa piacere vedere che nonostante vengano valorizzati poco, queste persone, queste belle penne, continuino a scrivere, a scrivere e a dare la loro arte a questa terra. Quindi tu stai dicendo, voltiamo pagina, questo festival metti in evidenza quella cultura artistica, poetica, che è nelle nostre radici. Ottima sintesi. Sì, decisamente sì. Io nella quarta di copertina, non ricordo però di quale libro scrissi, questa è una terra che vada molto alle radici, però dimentica il fiore. E qua di fiori ce ne sono tanti, tanti, tanti. La cosa bella, sai qual è? Che in realtà, chi ha passione per quello che fa, tu per la poesia, voglio dire, l'hai sempre avuta, hai sempre messo in evidenza il tuo lato artistico da questo punto di vista. Però, ecco, è bello dire, diamo spazio agli altri, facciamo capire che c'è un territorio che ha tante presenze e nello stesso tempo che si confronta anche con artisti che arrivano da fuori. Certo, per questo parlavo di traccia, di passaggio del testimone. Ammesso che io sia, abbia abbastanza autorevolezza per passare un testimone. Però, incominciare a scavare un solco, perché qualcosa continui, e continui ed emerga dal punto di vista poetico. Perché, vi assicuro, c'è comunque un pudore alla base che trattiene chi scrive versi dal palesarsi. Io, a distanza di 30 anni, ancora non l'ho perso, questo pudore. Però c'è tanta gente che meriterebbe altri riflettori, oltre quelli che vanno dal, che si ritrovano nei reading poetici. Splendidi tutti, però ci sono alcuni partecipanti che meriterebbero altri riflettori. E questo festival, si spera, nella prima edizione, fin dalla prima edizione, riesca a dare appunto il giusto valore a queste voci poetiche. Allora, io dico che è una bella scommessa quella che si sta mettendo in campo. È una scommessa positiva in cui si parla bene del mondo artistico, del mondo poetico, si parla bene del nostro territorio. e sarate come quelle che avete organizzato. Grazie, dobbiamo dire, ad Angela Cacce, perché lei, quando si mette in movimento, è veramente un motore che si accende e che riesce a dare anche le risposte giuste per chi vuole collaborare con lei. e sicuramente ci sarà una grande attesa perché abbiamo bisogno di voltare pagina. E Santa Severina ci dà questa opportunità. Assolutamente sì. Detto bene, è una bella scommessa, un obiettivo sicuramente importante. Ma io sono altrettanto sicuro che il nostro territorio saprà accogliere, diciamo, questa occasione e sarà una scommessa vincente, ne sono proprio sicuro. Io pure ne sono convinta. Però, ecco, quello che bisogna lanciare come messaggio è di far capire ai nostri telespettatori attraverso la nostra emittente che c'è questo movimento, questa voglia di far emergere questo territorio e quindi siamo tutti protagonisti di questi eventi perché dobbiamo dare ognuno il proprio contributo. Assolutamente sì. I protagonisti saremo noi, il protagonista è il nostro territorio. Abbiamo, ripeto, ottimi, validi, professionisti, ottimi, validi, poeti e quindi sono sicuro che non si fermerà solo al territorio crotonese ma arriverà sicuramente in tutta la Calabria ma anche a livello nazionale. È un bel messaggio quello che avete lanciato, un messaggio che ci spinge a dire noi ci saremo perché credo che sia importante far vedere non solo chi sono i partecipanti ma la bellezza di tutto questo evento e chi ama la cultura non può tirarsi indietro. Quindi io ti ringrazio per la tua presenza nei nostri studi perché ci dai la possibilità di dare significato a quello che è anche la nostra attività parlare di cultura mettere in evidenza la bellezza del nostro territorio e dare così anche ai nostri telespettatori la voglia di scoprire che non siamo lo zero assoluto siamo sempre più in crescita nella classifica e attraverso la cultura possiamo dare tanto. Quindi grazie a te Angela grazie al Vice Sindaco di Santa Severina grazie a voi amici telespettatori ricordatevi il primo appuntamento è l'8 di settembre andremo tutti lì io sono convinta che ci saremo e saremo in tanti. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.